Salve, dove sono i forni per la pizza? Corsia 3, all'erba finta a destra. Se arrivi al fenicottero, sei andato oltre. Carrello! Vado nella corsia 3? Noi intanto andiamo al reparto giardinaggio. Forza, ragazze! Oh, Bingo! Facciamo che sono le nostre case. Sì, questo è il mio cordile e quello il tuo. Sì! Ehi, Bingo, guarda, ho anche un giardino. Anch'io ce l'ho. Questi non sono mai troppi. Oh, tu allora devi essere mio marito. Non è giusto. Anch'io voglio un marito, però. Sì, certo, ecco. Lo stesso di Bingo. Ciao, marito. Ciao, io mi chiamo Ecuba. Oh, salve, Ecuba. Io mi chiamo Gerald. Ora io farò dei lavoretti in giardino. Scava, 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 scava. Ehi, Gerald, non ce l'ha la pala. Mamma, il marito di Bingo è migliore del mio. Cerca di accontentarti di quello che hai, ok? Non posso accontentarmi di quello che ho se quello che ha lei è meglio. Provate l'esperienza di un suono turco. Rumore! Buio! Ok, ora è iniziato il film. Ma che noia! Bingo! È il pezzo del temporale! No, sono delle scimmie su un albero. Ehi, Chubbles! Guarda che ho inventato. Possiamo esplorare le lande terrestri. Oh, Chunky. Tu e le tue invenzioni. Bingo, sta ferma. Perché non riesci a essere come tutti noi altri? Perché devi essere sempre così diverso? Non lo so. Non essere diverso. Oh, mamma, le canzoncine. E' questo che vuoi... Un pop-corn, per favore. Certo. Bingo, non toccare. Papà, ma io sono diversa come Chunky. Eh? Eh, sì, beh, no. Bingo, no, smettila. Io sono annoiata. Ciao, annoiata. Piacere di conoscerti. E io sono affamata. Oh, ciao, affamata. Lei è annoiata. Oh, che pubblico difficile. Papà, io voglio mangiare. Oh, sì, è l'ora del tè del mattino. Sì! Ma non ho portato niente da mangiare. Sapete una cosa, ragazze? Credo proprio che dobbiamo arrenderci. No, io non voglio uscire dalla piscina. Dai, forza, bingo. Ho freddo ora. Beh, prendi l'asciugamano. Non ho portato l'asciugamano. Scrollati allora. Io non ho imparato a scrollarmi ancora. Dai, forza! No, io non voglio uscire dall'acqua. Resto in piscina, ha detto. Non riesco a scrollarmi, non ce la faccio. Vieni a darmi una mano con tua sorella. Ha detto che non uscirò mai da questa. Papà, ho freddo. Papà, io sto gelando. Riesci a crederci? Il maggiordomo ci ha cacciate via. Oh, dovremmo vivere nella foresta. No, questa ragazza non fa il bagno da tre giorni. Mi piace puzzare. Addio, dolce cuoca puzzolente. Dovrà costruire una casa di amoscelli. Noi giochiamo insieme. Non sono certa di aver capito di cosa parli. Oh, grazie. Sono per la mia casa. Il maggiordomo mi ha cacciata via. Oh, una casa! È stupenda! Possiamo prendere le piante per fare il muro. Sì, quello potrebbe essere il muro. Oh, è molto bello! Ora ci serve del cibo da mangiare. Possiamo piantare questo seme per far nascere i frutti. Ma certo! Possiamo piantare questo seme come dei contadini. Puoi prenderne due, nel caso volessi tanto cibo. Io non mi chiamo Bingo. Mi chiamo... Rubinettina! Posso prenderlo, papà? Devo scrivere l'ordine di Rubinettina. Allora, signore, che cosa le porto? Vado a controllare gli involtini primavera. Vorrei qualcosa di super piccante, per favore. Certamente. Le lo porto subito. Bleh! Menù bagnato! Io, io! Rubinettina, non sono certa che lo puoi mangiare veramente. Ma io ho fami! Troppo piccante! Ma non sono ancora pronti. Ehi, la mia cena! Oh, è... Oh, troppo piccante! Ok, ok, vieni qui, piccola. Allora, come va adesso? Bene, ma ora devo fare la pipì. Sto scoppiando. Oh, per dindirindina. Ok. Io sono un tricheco. Cos'è il gioco dei mimi? È facile, Muffin. Prima peschi una carta. Ma non devi farla vedere a nessuno, ok? Ok. Poi guardi il disegno sulla carta. Ok, visto. Che c'era sulla carta? No, Muffin! Io la voglio vedere! Oh, no, tesoro. Noi non dobbiamo vedere la carta. Adesso la nostra Bluey ce la mimerà. E noi indoviniamo cos'è. Oh! Ok, pronte? Pronte! Aquila? No. Oh, è un tacchino di bosco, allora. Ibis! Scogliattolo! No, una gru, forse. Pollo! Tu che cosa dici, Socks? Papera! Sì! Evviva! Bel colpo, Bingo! E vai, tocca a me! Voglio giocare io! Aspetta, prima guardane almeno un'altra, tesoro. Ok, nonna. Forza, Bingo! Pesca una carta. Ma che cos'è? Oh, no! Dobbiamo andare! Ehi, tablet! Lascia perdere! Chi? Perché? I nomadi grigi! Andiamo! Ok, ok! Wow! C'è mancato davvero poco. E cosa sono i nomadi grigi? Sono nonnette e nonnetti su caravan grossi e lenti. Se ci troviamo bloccati dietro, arriveremo in campeggio per ultimi e dovremo sistemarci vicino ai bagni. A me piacciono i nomadi grigi. Hanno dei claxon buffi. Ma dove sono i nostri tablet? Senti, la mamma ha dimenticato di prenderli. Oh! Tranquilla, conosco un sacco di giochi che possiamo fare senza tablet. Ne hai abbastanza per altre quattro ore? Che tipo di giochi sono? Giochi tipo... Io vedo! Sì, inizio io! Ok, però per favore, trova una cosa difficile, bingo! È noioso quando è troppo facile. Ok! Io vedo col mio piccolo occhietto qualcosa di colore!